La notte controllo, per motivi che non dipendono da noi, è finita qua. Ma fatemi finire! La notte in 007 è finita qua. Quando sono le due esatte dell'orologio di Matrix, cambia la console. Come ogni camion console, si saluta chi scende e si dà il benvenuto a chi sale. E per dare il benvenuto, come ogni volta, si alzano tutte le mani al cielo. Si apri il simbario del Matrix. Da questo momento, un amico innanzitutto, una special guest star DJ With United, Mr. Andrea Maggioni. E' arrivato i nemicotti. E' arrivato i nemici. E' arrivato i nemici. E' arrivato i nemici. E' arrivato i nemici. Però i non sono abbastanza oggi... Non sono piùoral o il futuro... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti.